Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di sabato 17 luglio 2021. Queste fanno tv come sempre, ben ritrovati cari telespettatori, cominciamo subito con il santo del giorno, le previsioni del tempo perché questo è un fine settimana un po' particolare e poi diamo un'occhiata ai giornali che abbiamo selezionato per voi. Iniziamo dal santo, vediamolo subito, oggi è Santa Marcellina, il sole è sorto alle 5.39, tramonterà le 20.48. Sempre dal sito della protezione civile delle Marche, questa è la situazione, cielo nuvoloso a tratti molto nuvoloso, con precipitazioni sparse, prevalente caratteri di rovescio temporale, localmente anche di forte intensità. Fenomeni in parziale attenuazione dalla serata, parziale perché domani tornano comunque le piogge sparse nella mattinata anche a caratteri di rovescio temporale. Nel pomeriggio i fenomeni continueranno di interessare il settore alto collinare montano con esaurimento dalla serata. Per la giornata di lunedì, la settimana prossima si apre con il cielo ancora perturbato in montagna, ma sulla costa dovrebbe essere buono con qualche nuvolosità parziale. Condizioni di tempo stabile almeno fino a mercoledì prossimo. Allora, insomma, diciamo che il tempo, o meglio, la terra aveva bisogno di acqua e quindi ringraziamo il Padre Eterno che ce l'ha mandata. Un po' meno contenti saranno sicuramente i bagnini, coloro che lavorano con il sole, con la bella stagione, però, insomma, bisogna ogni tanto accontentarsi. Saluto allora Cristiano Bonin dai Bagni Azzurri. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, è buona ragione Marco, ci vuole un pochino di acqua. Sì, dai. Chiaramente voi siete sempre lì a presidiare la spiaggia, ma insomma, anche se oggi più o meno tutta la giornata sarà caratterizzata, come abbiamo visto, ti risulta, insomma, dalla pioggia. Sì, 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 oggi purtroppo sarà così, però come ti dicevo anche ieri, noi abbiamo degli appartamenti dietro, quindi i clienti ci sono, scenderanno e ci faranno compagnia comunque per la colazione, quindi il servizio ci deve essere sempre, noi ci siamo. Ecco, se no per il resto la giornata prosegue un po' così, insomma, ecco, si sistemano un po' le cose, se ne approfitta, no, della mancanza della gente, della clientela per fare un po', sistemare un po' le cose. Allora, noi chiudiamo qui questa settimana di collegamenti, quindi ti ringraziamo, ti auguriamo buon lavoro. Io ringrazio tanto voi, tutta la redazione di Fano TV per questa settimana, per questa bellissima cosa che state facendo, perché avete dato la possibilità di poter conoscere anche la zona più sud di Fano, dove ci sono altrettanto spiagge bellissime, quindi veramente grazie per questa cosa che state facendo. Bene, grazie a te, buon lavoro Cristiano e buona estate. Ciao a tutti, buon weekend. Buon weekend anche a te, tra l'altro ci sposteremo la settimana prossima, non vi dico da dove, però ci sposteremo e cominceremo ad andare anche verso il sud delle Marche. Intanto diamo uno sguardo al radar, questa è la foto delle 6.30 di questa mattina, vedete come la situazione, quella verde è la pioggia, quella gialla sono i temporali di forte intensità, quindi insomma questa è un po' la situazione del tempo. Allora adesso andiamo a vedere invece i giornali. Cominciamo dal canino di Pesero. La fotonotizia è per lo sport, la VL, il basket, il ritorno di coach dell'ex play che promette vi porto in Europa, l'incoronazione di Petrovic, questo è il titolo, ha 62 anni ed è il nuovo coach della VL. Poi il titolo invece d'apertura è per la disavventura di due studentesse minorenne, no due studentesse, una in minorenne e l'altra no, due studentesse comunque giovanissime insomma che sono in fuga da un focolaio e sono in vacanza tuttora, chiamiamola vacanza insomma, ma comunque sono là a Corfu in Grecia, queste due pesaresi che sono adesso però state trasferite dal residence in un hotel più sicuro, qui dicono loro è pieno di contagi. Poi ex AMGA, siamo sempre a Pesero, il comune ci riprova, a settembre la bonifica, ci sarà anche il Fito Lago. Poi una professionista che racconta guarita del Covid ma sto perdendo i capelli a ciò che vedremo tra un istante. Vaccinazioni, poche prime dose, i positivi sono in risalita, la lotta al virus dunque continua. Continua poi Vispesero, la piccola Coverciano a caccia dello sponsor. Tiro al volo a Rio Salso, due giorni di super gara, attesa l'esibizione di Davide De Carolis. Andiamo invece a vedere adesso il Corriere Adriatico, sempre l'edizione di Pesero. Parc, soluzione Santa Marta, chiaramente le prime pagine solitamente sono dedicate alla città di Pesero, anche i titoli d'apertura salvo cose più grosse. Da oggi fino al 31 di agosto saranno 60 gli stalli a disposizione dei turisti della zona di Levante. In vigore l'accordo sulla sosta, l'istituto ne conta altri 200 a pagamento destinati ai bagnanti. Mentre a centro pagina, anche qui vedete lo sport, Petrovic, VL, ci divertiremo, il coach è tornato a Pesero. Poi sulla terza corsia della 14, finalmente si fa sul serio, c'è questo passo in avanti fondamentale per la regione Marche, è quasi fatta per l'istituzione di un tavolo tecnico con il Ministero delle Infrastrutture. Poi a Pesero, bloccate ancora, vedete, a Corfu le due studentesse in un Covid hotel, a Urbino cinque pakistani sotto processo per sfruttamento, e a Marotta per entrare in ZTL assale un militare e un ambulante. sotto il mistero del Principe Guerriero, una tomba di 2600 anni fa ad Urbania, un Principe Guerriero scoperto in località Cantinaccia di Urbania, due passi dal barco Ducale in direzione Sant'Angelo in Vado, e la sua presenza già sta facendo in qualche modo riscrivere alcune determinanti pagine della storia dei popoli che in era pre-cristiana abitarono nell'Italia centrale. Impennata dell'RT, ce l'eravamo un po' dimenticati l'RT. Che cos'è l'RT? Vediamo un po' se siete preparati. L'RT è l'indice di contagio. Ripeto, ce l'eravamo un po' dimenticati perché nei parametri che sono usati per poi in cabina di regia definire le coronazioni delle regioni, questo indice di contagio era stato un po' accantonato. Eppure sta salendo, sta salendo. Dovevamo, ricordate, non dovevamo superare l'1 perché con l'1 di indice RT scattava in automatico la zona gialla, per esempio, eccetera. Quindi da 0,44 le marche sono passate in pochi giorni a 0,92, quindi molto vicini all'1, però, ripeto, ormai conta poco questo RT. I contagi sono stabili rispetto alla settimana precedente con un saldo addirittura leggermente negativo mentre fa un balzo verso l'alto appunto l'indice di contagio, l'indice di replicazione del virus. Questo è un articolo che anche questa mattina porta la firma di Lorenzo Sconocchini che vi invito a leggere perché come sempre ci dà un po' il quadro della situazione nella nostra regione. Il monitoraggio della cabina di regia conferma la precedente classificazione, quindi non c'è nessun tipo di problema per quanto riguarda la zona bianca. Da 12 giorni nelle marche non si registrano morti, non si registrano decessi correlati in qualche modo al coronavirus. Ieri ci sono stati però 52 nuovi casi positivi e due persone che sono state ricoverate in ospedale ma non in terapia intensiva. L'altra pagina del Corriere Adriatico c'è un'intervista a Salta Martini, che è l'assessore alla sanità della regione, che parla del Green Pass. Sul Green Pass chiaramente anche lui dice per il momento no, però alcune restrizioni saranno inevitabili se dovesse salire il contagio. Un milione di prime dosi entro fine mese, però è caccia, e qui questa parola, questo termine che fa paura, non è bello quando si riferiscono alle persone, però giornalisticamente si continua ad usare questa parola, caccia ai 300 mila marchigiani che mancano all'appello. E tra questi, come dice a Stefano Rispoli, l'assessore, insomma ci sono persone che hanno raggiunto una certa, quindi 60-70 anni, però poi ci sono anche per esempio ancora i sanitari, quelli che lavorano in ospedale, nella sanità, che non si sono fatti vaccinare. L'altro punto su cui parla l'assessore è l'obbligatorietà del vaccino per il personale sanitario. C'è una carenza, c'è già anzi una carenza elevata di anestesisti e internisti, non vorremmo che la mancata vaccinazione dei sanitari possa comportare problemi nelle sale operatorie. Come dire, sì, è vero che la legge adesso è dalla nostra parte, se uno fa tanto lo schizzinoso, non si vuole vaccinare, lavora a contatto con i pazienti, noi lo possiamo mandare a casa senza tanti problemi, oppure demansionale, eccetera, eccetera. Però, però, sono tutte persone che in questo momento stanno lavorando, sono dei professionisti e che un domani dovessero appunto essere mandati da un'altra parte, verrebbero a mancare laddove servono, quindi anestesisti, eccetera, eccetera. Quindi è un po' la coperta corta, oppure insomma il cane si muove da colla, bisogna stare attenti. Qualche centinaio però di turisti, questo è il particolare che risalta questa mattina nel quotidiano di oggi, qualche centinaio di turisti ha fatto il vaccino anche qui nelle Marche. Si tratta di un centinaio di numeri di turisti che sono stati vaccinati nelle Marche, ovviamente si tratta della seconda dose, e quindi, insomma, secondo l'assessore, i primi casi di variante Delta nella nostra regione erano turisti che venivano dai paesi dell'Unione Europea, lo ricorderete, no? I primi casi che sono stati riscontrati. E comunque, vabbè, la notizia, se vogliamo, è proprio questa, che ci sono dei turisti che si sono fatti vaccinare senza problemi, problemi, comunque qui nella nostra regione. Quindi senza avere neanche troppa paura, se vogliamo, degli effetti, eventualmente degli effetti collaterali durante le vacanze. Di questo si era parlato, no? Anche di questo. Mentre Acquaroli, come si può vedere da quest'altro articolo di Spalla, sul Corriere di Oggi, continua a ribadire come un disco rotto, altro che a rischio, siamo sotto la media. Cioè, Acquaroli sta cercando in tutti i modi, e lo ha fatto anche con delle interviste ai giornali nazionali, collegamenti con televisioni nazionali, per cercare appunto di arginare questa notizia che si era diffusa qualche giorno fa, qualche settimana fa, ovvero che le marche potessero in qualche modo finire in zona gialla, ma non è così. Ma sapete che quando poi parte una notizia è sempre difficile, una voce soprattutto, non è semplice arginarla e fermarla. Parte il tam-tam e poi addio. E allora sta facendo adesso un po' il pompiere, Acquaroli sta cercando di tranquillizzare tutti e di far tornare tutti al loro posto. Allora, sempre sulla questione del Covid, ci sono questa notizia sul Corriere che porta la firma di Simonetta Marfoglia, un articolo che riguarda queste due giovani studentesse pesaresi di 17-18 anni, che sono rimaste bloccate sull'isola greca di Corfu, dopo essere risultate positive al virus, prima di imbarcarsi su un volo di ritorno. E se darà esito negativo, dicono queste ragazze, potremmo finalmente partire e rientrare in Italia. Se invece dovesse essere positivo il tampone, dicono loro, beh, non vogliamo nemmeno pensarci, vogliamo solo uscire il primo possibile da questo incubo. Ora, condividono l'evoluzione del virus insieme a una cinquantina di altri ragazzi, vedete quanti ce ne sono, la maggior parte italiani, alcuni vengono da Roma, che a fine vacanza si sono imbattuti nella sorpresa che non ti aspetti. Ora, in realtà, come dicevamo ieri, sorprese che non ti aspetti, insomma, sorpresa che non ti aspetti è una sorpresa che devi tenere comunque in considerazione. Chi va, come dicevamo, appunto in vacanza, decide di andare in vacanza, decide di spostarsi, di andare anche in altri posti, altri paesi europei, questa sorpresa la deve mettere in conto. Poi che si amara o non amara, questo è un discorso diverso. Per molti, evidentemente, non lo è, ma poi quando ci si imbatte e la si vive sulla propria pelle, ci si accorge che la sorpresa è molto amara. Anche perché poi fuori casa, quando si sta male è tutta un'altra storia. Se non facevamo il tampone, raccontano ancora queste ragazze, non ci saremmo neanche accorte di aver contratto il Covid. Quindi, da questo punto di vista, ringraziamo tutti questi controlli, questa prassi che viene fatta del tampone prima, dopo, eccetera, eccetera, perché se no sarebbe stato un disastro. Queste ragazze non sono partite con l'aereo da Corfu perché sono risultate positive al Covid. Una loro amica, invece, è partita, è arrivata a Pesaro. È partita perché? Perché non era positiva, ma quando è arrivata a Pesaro, le hanno fatto il tampone, è risultata positiva anche lei. Quindi è importante, vedete, il tracciamento, in questi casi, ancora si può fare il tracciamento, così come il sequenziamento del virus. Cioè, sono tutte cose che si possono fare quando non siamo in emergenza piena. E quindi il tracciamento consente, appunto, di arginare i contagi. Andiamo adesso sull'altra pagina, invece. Questo è il titolo del resto del Carlino, con un'intervista ancora a Saltamartini, l'intervista di Pierfrancesco Curzi. Caccia a 300.000 marchigiani non vaccinati. Ora, se non avete fatto il vaccino, non avete intenzione di vaccinarvi, attenzione perché vi stanno dando la caccia. Ad agosto un milione di immunizzati, dice Saltamartini, persino la TV tedesca ci ha preso a modello. Allora, Assessore Saltamartini, Saltamartini chiede Curzi. Esiste ad oggi il rischio che le marche possano tornare in zona gialla? Non credo, dice lui. Siamo molto al di sotto della soglia di rischio. Monitoriamo la situazione giorno dopo giorno e vediamo che cosa succede. Mancano però, pur sempre, 300.000 persone qui nelle marche. Le stiamo cercando anche grazie ai medici di base. E poi, qual è la fascia di età con più carenze all'attivo sul fronte vaccinale? Quella tra i 60 e i 70 anni. L'altro effetto del Covid sono le calvizie femminile. La testimonianza è di una professionista, la testimonianza raccolta dal Carlino questa mattina. Lei racconta e dice i capelli mi stanno andando via ciocche, come lei un'altra decina di donne tra i 40 e i 55 anni. E il ritorno al lavoro, racconta questa donna, è stato duro, ma ormai dice ce l'ho fatta. Avevo messo in conto di fare poco mare per evitare i danni del sole, ma non mi sarei mai aspettata di dover affrontare la scelta di una parrucca. Ancora non l'ha messa, ma ci sta pensando. La professionista si rivolta al dottor Gniucci, dermatologo, e ha scoperto che il suo non è l'unico caso a Pesero. Ho scoperto che la perdita dei capelli è capitata da almeno 4 o 5 altre donne di un'età tra i 40 e i 55 anni, dopo due o tre mesi al ricovero ospedaliero per il Covid. Quindi questa donna è stata per molto tempo, circa due o tre mesi insomma, in ospedale. Però, ecco, questa perdita di capelli a ciò che andrà avanti per qualche mese, per alcuni mesi, almeno 6 oppure 8, prima di tornare ad una capigliatura completa. Pressing sulla Regione per riportare pediatria. Ancora sanità, come vedete, il tema della sanità è sempre in primo piano sui quotidiani. Anche qui, il problema di pediatria all'ospedale di Pesero. Biancani in calza sul ripristino del Dipartimento Materno-Infantile a Pesero. Sapete che non si può nascere a Pesero in questi mesi. Bisogna andare o a Fano o da altre parti. Il nodo del personale medico in uscita dal reparto, poi i bandi di Marche Nord. Da Fano alloggi popolari, picco di richieste in 370 per 15 abitazioni disponibili, presenti 35 appartamenti, ma tre sono già occupati abusivamente. I privati non rispondono al comune. Ospedale, seri non cambia idea, servono atti concreti. Il sindaco dopo le reazioni dice rassicurazioni in ritardo sono solo intenti al vento. E poi da Fano Sud, sempre dal Carlino, la strada è in salita, il comitato annuncia esposti, bocciata mozione per destinare 20 milioni della variante di Gimarra all'alternativa, la statale 16. Qui parliamo ovviamente di un tratto di strada di statale 16 a Fano Sud, dove spesso questo tratto di strada è teatro di incidenti anche mortali, l'ultimo qualche settimana fa. Ed ecco perché questa protesta dei residenti continua e permanente. Se andate da quelle parti e vedete delle bandiere rosse, ecco, e vi state domandando perché ci sono le bandiere rosse, sappiate che sono il segno di questa protesta che va avanti ad oltranza. Andiamo ancora sul giornale di Fano, però questa volta il Corriere, di nuovo. Fano Sud, bocciata l'idea dei 5 Stelle, il no arriva anche dalle opposizioni, il gruppo chiedeva di impegnare questi 20 milioni della strada per Pesaro per arretrare la statale Tombaccia-Marotta, quello che dicevamo poco fa. C'era anche questo progetto, quest'idea, chiaramente tutta da mettere in nero su bianco, ma che non verrà mai alla luce di spostare, di arretrare la statale 16 rispetto a così come la conosciamo. Unica certezza invece, torniamo al centro di Fano, centro storico, Piazza Marcolini, unica certezza, no parcheggi. L'assessore Tonelli spiega diversi nodi da sciogliere, faremo confronti, i confronti ovviamente con i residenti, e sintesi, perché lì il problema in Piazzale Marcolini, per chi è di Fano e conosce la zona, chiaramente lì ci sono anche dei residenti che chiedono giustamente di poter parcheggiare vicino casa, non proprio sotto magari, ma comunque vicino casa, perché altrimenti lì attorno parcheggi non ce ne sono più, sono stati tutti tolti e quindi diventa un po' complicato parcheggiare e poi andare a casa, mattino, pomeriggio, un conto all'estate, ma arriva l'inverno, eccetera, eccetera. Quindi bisogna trovare una sintesi e soprattutto fare un confronto, avere un confronto con questi residenti. Intanto rimanendo sulla strada, c'è questa notizia che arriva e che sicuramente è una buona notizia perché parliamo della terza corsia sud in A14, adesso è ufficiale, c'è questo tavolo tecnico tra regione e autostrade, l'assessore Baldelli dice che è una svolta storica, così inizia una stagione di iniziative concrete e ora massima condivisione con il territorio, si valuteranno anche percorsi alternativi. Sapete che la terza corsia arriva fra un certo punto nelle Marche, poi il resto è tutto un cantiere, tutto un rallentamento e a volte anche tanti incidenti. Un carnevale statico, giocando un po' sul fatto che saranno fermi i carri, non saranno in movimento, non faranno alcuna sfilata per questa edizione estiva, quindi saranno statici, saranno fermi e quindi sarà un carnevale estivo con i carri fermi. Svelato il programma del 21-22 agosto nella zona mare e poi 28-29 agosto in centro storico. Dante, ovviamente filo conduttore dei carri e degli eventi sarà presente, scusate, era presente a questa iniziativa anche l'assessore regionale Baldelli. Poi sulla pagina della Val Cesano la cronaca, andiamo a Marotta perché a Marotta c'è stato questo episodio che racconta oggi, raccontano i giornali, dove il protagonista è un pizzaiolo di 25 anni che voleva girare con la sua auto una Mercedes nell'area con ZTL cioè a traffico limitato dove tra l'altro c'erano degli espositori che stavano organizzando e mettendo a posto la mercanzia per cercare di allestire un mercatino per la sera. Questo qui è arrivato con la macchina stando al racconto dei giornali e è quello che vi abbiamo anche raccontato noi nel telegiornalieri ha cominciato ad aggirare insomma con la macchina dentro questa ZTL qualcuno gli ha detto cosa stai facendo questo è sceso è cominciato ad aggredire un settantenne insomma alla fine sono arrivati i carabinieri ha aggredito anche i militari e quindi non potevano far altro i carabinieri che arrestarlo e quindi è stato condannato a dieci mesi di reclusione pena sospesa. Molestia invece all'ex compagno a lui è stata affidata la figlia decine di telefonate e messaggi per diversi giorni voleva avere notizie e foto della figlia che però è raffidata all'ex compagno lei è finita a processo 33 anni per molestie e sotto restyling a Mondolfo del Chiostro di Sant'Agostino prefetto in visita ha presentato il restauro che partirà a fine estate e durerà per sei mesi adesso le pagine di sport velocemente prima di chiudere la nostra rassegna Petrovic Caravuelle ti porterò riporterò in Europa il coach croato tornato a Pesero dice vedrete che tutti si innamoreranno di noi possiamo fare cose belle in almeno due anni voglio una squadra intensa e con cuore il Fano invece parliamo di nuovo di calcio il Fano prende forma così Agliano lo vedete Enzo Agliano in questa fotografia è il nuovo direttore sportivo di Granata tanta esperienza nei campionati dilettanti ma non in Serie C per la panchina salgono le quotazioni Gioffre è il tecnico del Boiano l'altra squadra di proprietà di Russo anche l'ex Barletta Farina in Lizza come allenatore specialista di promozioni dall'eccellenza alla Serie D vediamo adesso invece l'altra pagina sempre che riguarda il Fano però dal Carlino l'Alma si riassesta arriva Enzo Agliano l'ex direttore sportivo del Gugliano Calcio collaborerà nella gestione dell'area tecnica probabile l'avvicendamento con Traini l'ultima pagina invece è per sempre dallo sport è per il marottese Davide Mazzanti 44 anni allenatore CT della Nazionale di Pallavolo Femminile e orgoglio di Marotta dice lui ora ci provo a imitare Mancini il Mancio sogno un oro alle Olimpiadi riviverò una emozione un'atmosfera incredibile dunque ai giochi di Pechino del 2008 Londra 2012 ha partecipato come componente dello staff tecnico poi insomma ha fatto altre esperienze insomma adesso allenerà questa squadra che giocherà alle Olimpiadi e con questo chiudiamo qui il nostro commento alla stampa grazie come sempre per averci seguito noi ci vediamo lunedì mattina alle 7 questa sera alle 20.30 c'è 7 per occhio il magazine della redazione che fa un po' il resoconto di tutte le notizie più importanti della settimana grazie per averci seguito e arrivederci